Siamo con Maria Siliberto, assessore alla pubblica istruzione, che ci rende un resoconto della riunione appena avvenuta con i sanitari. Sì, ciao, buonasera a tutti. Abbiamo appena terminato la riunione nell'aula consigliare e poi ci siamo spostati qui alla Chiesa Vecchia, il luogo dove avverrà l'esecuzione dei tamponi. Do delle notizie così veloci, ma ovviamente poi i dettagli saranno dati nelle prossime ore. Iniziamo con i tamponi delle scuole medie domani 5 gennaio, dalle 11 in poi, più o meno dovremmo terminare intorno alle 13. saranno sottoposti a tamponi i ragazzi delle scuole medie per proseguire poi nel pomeriggio del 5 gennaio dalle 15 alle 19 e poi ci sarà l'ultimo step del 6 gennaio con il termine di tutte le esecuzioni dei tamponi e di chi non ha avuto la possibilità di tamponarsi il 5 mattino e pomeriggio. Ovviamente questa è un'iniziativa rivolta alla popolazione scolastica, comprendente gli insegnanti e il personale ATA, oltre ai ragazzi della scuola elementare e scuole medie. Ovviamente il nostro messaggio è prevenire e meglio evitare, quindi è indispensabile oggi eseguire questi tamponi rapidi.